Tutti i coloro titolari di licenza d'arte devono sapere non partono colpi accidentali se io non faccio una pressione determinata su quel letto e parte il colpo. Potete notare che nonostante la defragazione ad altissime temperature il colpo non si è polverizzato perché questo è un calibro 3.08 da solo sufficiente ad ammazzare un animale di grossa taglia con un solo colpo di questo, lo stende. Quindi pensiamo cosa sarebbe potuto succedere se inavvertitamente il ragazzo uscendo dal secondo piano di quell'aula lì c'è, se non sbaglio, il triennale poteva essere attinto da una cosa del genere.